Musica Hi people of youtube, welcome back to the new episode of Saintro, Gata Toffella A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata Ci siamo lasciati le scorse puntate con il nostro arrivo qui nell'inferno E abbiamo già ottenuto la lealtà di Dane Però abbiamo altri incarichi, ovvero caricare l'aureola e tutti i vari incarichi secondari Mi chiedo solo quale sia il potere giusto Credo che quello che mi serve adesso è quello dell'esplosione Ovvero il potere di lanciare la pallina esplosiva Credo sia questo Quindi dobbiamo andare dalle gemelle Per Johnny sarà un bell'incontro nuovamente Ali d'angelo, e ovvero? Resta in aria durante il volo e i salti soprannaturali per un totale di dieci minuti Wow Ok, eccoci nel quartiere delle... Aia, 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 che male Delle The Winter Ehi là, gemelline, come va? Mamma mia, è da un sacco che non ci vediamo, eh Eh beh, lo credo anch'io A parte con che framerate però, ragazze, scusatemi Certo che i paletti esplosivi non sono male, eh Aspetta, aspetta È come quello, ma peggio È esploso il tizio, sì, è esploso, perfetto Aspetta, aspetta, aspetta Ecco qua Dovrei vedere se fra i potenziamenti... Minchia Dell'Ar... Aspetta Allora, voglio vedere com'è la pistola A questo punto Perché, scusami, se te la danno senza il potenziamento del danno Vuol dire che è forte Almeno Io la vedo così Dove sei? Anche perché, in teoria, questa si carica, fa più danno, giusto? Dove vai? Aia Aia, che male Allora, a parte il fatto che Io non ho idea di cosa sia appena successo Però Da sto punto Aia, che male È arrivata una ruota dritta in faccia Ah, volevo ucciderlo con i coltelli Madonna mia Le animazioni di Get che uccide sono Tutte bellissime Morti tutti? Oh, che carina Non si può No Peccato Volevo vedere se potevo registrare le Le... come si dice I veicoli come in centro 4 Però, a quanto pare, non si puede Questo Dove sei? Preso? Preso, perfetto Abbiamo il tizio grosso? Ovviamente abbiamo il tizio grosso Ecco fatto Ucciso legionario Ah, speravo di prendere Più nemici in una botta sola Invece no Io devo capire Il potenziale di quest'arma Devo capire se è veramente potente o no Hooray Hooray Ah, poveracce Dopo essere riunitati in Hell Kiki e Viola Nel tempo di farlo C'erano il meglio Facilitare il corso Eh, certo Ovvero De Winter Sister successo Non si è benissimo Con gli altri Proprietari in Hell Ovvero Certo che Dein comunque Allora, a parte il fatto Che è stato ucciso Ma se non fosse morto Avrebbe avuto un ruolo Molto più di spicco Secondo me Brave ragazze Che potere abbiamo appena ottenuto La scarica Yes Usando un'esplosione arcana Elemento esplosione pietra Diversivo blindati Yeee Questo cos'è il tutorial dell'esplosione Va bene Yes I am Ma in realtà Potrei anche menarli No? Peccato Volevo menarli Dove sei? Eh, se solo Riuscissi a prenderlo Fermati Da porca Ecco fatto No, è caduto nella lava Ma non è Ok, sto dicendo Non è morto Uno Dai, ricarica Due Tre Presi Non è male Questa qua Della pietra Non è male Dov'è? Ecco fatto Stato semplice Beh Quello della pietra Non è male Non è male Anzi Può stannare Un sacco di nemici Soprattutto Ci può stannare Quello lì grosso Il legionario Perché sono arrivato Dall'ascensore Recluta Barba Nera Va bene dire che Facciamo le cose Pezzo per pezzo Quindi signori Vi ringrazio a tutti Per avermi seguito Come è assolutamente seguito Se volete dirmi qualcosa Sempre qua sotto Noi ci vediamo Al prossimo episodio Ciao a tutti Ciao a tutti